E ci sono anche molto meravigliato dell'onorevole Di Girolamo che ha avuto l'occasione in Parlamento per fare qualcosa per il Sud. Non venga a fare la morale a me una che ha fatto 20 anni il parlamentare e che aveva l'occasione per dare una mano al Sud. E' un po' giovane, non è che ha fatto 20 anni. Sei pure scortese come uomo, non solo come politico. Perché io non faccio politica da 20 anni, che non ho 80 anni. Impara un po' l'educazione, perché la cosa che ti voglio dire è che ti sei messa a paragone con un conduttore televisivo. Tu non fai lo showman, fai il politico. Hai una responsabilità. Sciletti può avere anche gli autori che gli danno i suggerimenti. Tu no, perché Grattano dovresti tenere nel cuore, non sulla bocca. Capito? Nel cuore, dimostrando di saper fare politica. Vergognati! Allora, allora...